Nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe e i danni dell'Inps nel settore agricolo, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Ragusa un imprenditore vittoriese di 43 anni. L'uomo, in concorso con altri 31 pseudobraccianti agricoli, mediante falsi contratti di affitto di terreni nel periodo dal 2008 al 2011, avrebbe instaurato rapporti di lavoro fittizi con i quali avrebbe truffato l'Inps, richiedendo e ottenendo l'erogazione dell'identità di disoccupazione speciale prevista per il settore agricolo per un importo complessivo di oltre 66 mila euro. Pertanto, su segnalazione dei carabinieri e agli organi competenti, si procederà all'annullamento dei rapporti di lavoro e al recupero delle somme indebitamente percepite dagli pseudobraccianti agricoli.